Mirko Gentilini, anche lui Mangino, che emozione è stata? Una grande gioia, ti puoi immaginare, ho cominciato questo percorso nel 22 e oggi culmina con questa grande vittoria di aiuto al Capitano Toscano, una grande gioia per il popolo dell'Onda, per tutti, grande gioia, ho ancora da rendermi un po' conto di tutto. Però mi dicono che non ha perso l'appetito. No, sono furbi loro, sì devo dire a differenza degli altri anni, questi quattro giorni fa li ho mangiato, anche un po' più dell'aspettativa, però dai, si ho tenuto leggero questa sera quando contava. Allora, una vittoria che è sembrata quasi nascosta, perché l'Onda era considerata, sì, fra le favorite, ma non la favorita. Queste, se si va indietro un po' nella storia, sono le vittorie da l'Onda, l'Onda è abituata a fare questi pali di V, quindi noi abbiamo lavorato in tutto quello che c'è da lavorare senza lasciare niente al caso e stasera qualcuno ci ha guardato anche dal cielo. Chi è che va guardato dal cielo? Ma io credo tanti di un tradaioli che non ci sono più, che hanno fatto la storia, tante persone vicine a ognuno di noi, al Capitano, a Mangini, sarebbero tanti ad elencare, non le elenco perché si vuole bene a tutti chiaramente e quindi anche loro credo ci hanno messo il suo, però devo dire un grande applauso, devo fare a Carlo Sanna, perché non ho posto, è stato veramente un fenomeno. E ha gestito la mossa? Eh sì, non avevo dubbi che sarebbe stato capace di prenderla al momento giusto e l'ha presa al primo San Martino arrischiato e ha vinto il Palio.